Carlo Cutis, preghiera semplice della sera prima di dormire. Recitala ogni giovedì alle ore 21. Iscriviti al nostro canale, il canale YouTube di Fratelli e Sorelle Preghiamo, e lascia il tuo commento dedicato al Beato Carlo Cutis. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, che sei amore infinito, questa sera ci raccogliamo davanti a te, con il cuore colmo di gratitudine e speranza. Ti offriamo la nostra giornata con tutte le sue gioie, le sue fatiche e i suoi piccoli trionfi, consapevoli che ogni nostro respiro è un dono della tua misericordia. Attraverso l'intercessione del Beato Carlo Cutis, giovane amico della tecnologia e delle anime, ti chiediamo di benedire tutte le persone che online si uniscono a noi in preghiera. Illumina i loro cuori con la tua luce divina, rafforza la loro fede nei momenti di dubbio, Carlo, tu che hai saputo vedere in internet uno strumento per diffondere l'amore di Dio e la bellezza della fede? Guidaci nella nostra presenza digitale, affinché ogni nostro gesto e ogni parola sia un riflesso della bontà e della verità di Cristo. Proteggi chi cerca conforto e speranza nel mondo virtuale e aiutaci a essere strumenti di pace e di carità nelle comunità online. In questo giovedì sera, giorno che ci ricorda l'istituzione dell'Eucaristia, ci affidiamo al cuore eucaristico di Gesù, fonte di ogni amore e di misericordia. Fa che la nostra vita sia un'offerta gradita a te e che possiamo ricevere in cambio la tua grazia santificante per testimoniare con gioia la nostra fede al mondo intero. Amen. Ti è piaciuta questa preghiera video dedicata al Beato Carlo Cutis? In questo caso, scrivi un commento qui sotto per rendere questa preghiera semplice ancora più efficace. Grazie.